In Viale Montegrappa mancano i cestini per la carta, non ci sono le rastregliere per le biciclette e soprattutto nel tratto finale i lavori non sono ancora stati terminati. Una situazione che è vissuta con grande disagio da residenti e commercianti. Mancano almeno 10-15 cestini, la gente non sa dove buttare la roba. Spesso me la ritrovo nel giardinetto qui davanti alla farmacia e giornali, fogli e foglie che riempiono il marciapiede in continuazione. Cestini, una griglia per le biciclette che la gente attacca le biciclette o attaccate alle colonne della farmacia o agli alberi, ai lampioni, ai divieti di sosta. Poi dove hanno messo queste cabine telefoniche non lo finiscono mai, un riciclaggio di escrementi di cani, di carte, di fogli e poi il passaggio pedonale che non viene finito perché non viene ancora spostata la lingua lì della fermata del pullman. I cestini mancano perché anche quelli che dei cani quando fanno i bisogni non sanno dove poter lasciare la roba, il cestino, anche per la sigaretta, perché è tutto un lanciare. I commercianti hanno chiesto più volte l'intervento dell'amministrazione comunale, ma in vano. Li ho chiamati, ho parlato sempre con la segretaria dell'assessore, mi hanno promesso veniamo, veniamo, veniamo. Li ho chiamati 4-5 volte, non si è mai presentato nessuno.